È uno scarso senso delle istituzioni e anche mi sembra uno scarso rispetto sulla città di Milano, medaglia d'oro della Resistenza, per noi il 25 aprile conta moltissimo, per tutta Italia conta il 25 aprile, ma per noi milanesi conta forse se possibile ancora di più e immagino tra l'altro non sia un libro su il ruolo delle donne e dei contadini nella Resistenza non violenta, immagino non sia qualche cos'altro, quindi direi che avrei potuto scegliere un'altra città anche. In quest'ultima settimana si è parlato tanto di censura anche riguardante il caso di Scurati, lei cosa ne pensa? Io penso che forse qualcuno ha voluto essere più realista del Re, un po' strano un paese, se ci guardiamo come ci guarderebbe un marziano, un po' strano un paese che dibatte su, ma ci si può dire antifascista come, quando, in quale luogo si ha il diritto di dirsi antifascisti, antifascisti è la nostra Repubblica, antifascisti dovremmo essere tutte e tutti noi, almeno io lo so. Il governo? Però ci sarà… Il governo? Il governo chiediamolo a loro, è un'ottima domanda, io voglio confidare che tutte le più alte cariche dello Stato siano profondamente antifasciste e che non abbiano paura di dirlo ad alta voce perché questo è… è un'ottima domanda, io voglio confidare che non abbio anche la domanda. Grazie a tutti